Io faccio questo il lavoro, cerco di convincere i giocatori che possiamo fare qualcosa di importante anche passando da prestazioni così dove sono partite difficilissime, recuperare dal punto di vista nervoso e fisico un derby dopo due giorni è apprezzo che è impossibile, infatti quando ho visto anche la formazione della Provercelli inizialmente mi sono preoccupato perché c'erano otto cambi, otto giocatori che non avevano giocato la partita scorsa quindi sapevo che sul piano fisico potevamo andare in difficoltà, sul piano principalmente della brillantezza e forse anche il gol è venuto così, ci siamo poi subito un po' accontentati però non posso rimproverare niente ragazzi perché veramente erano, ho visto gente estremata adesso dobbiamo provare a rimettere dentro un po' di energie, provare anche a recuperare qualche giocatore come Gaston che domani la sua paria farsi vedere ma sono molto speranze di poterlo recuperare e niente quindi c'è da prendere di positivo questi tre punti e adesso c'è da andare a Berlino a cercare di chiudere bene questa settimana non si entra nei playoff se noi abbiamo fatto le ultime 10 gare prima di inanellare queste tre vittorie dove abbiamo una media di 1,98 gol a partita subiti e quindi anche se poi segnavamo molto ma in questo momento dove i risultati sono pesantissimi basta guardare tutti gli altri campi, non prendere gol è fondamentale è inutile tornare a piangersi addosso, purtroppo abbiamo fatto, io credo ho visto in questi giorni una classifica pubblicata e basta vedere i danni li abbiamo fatti le prime giornate in maniera incredibile, poi dopo c'è stata qualche battuta dal resto però devo dire che anche abbiamo saputo rialzarci sempre con grande forza, con grande determinazione quindi questo è anche un pregio della squadra che non molla mai che sa rimanere anche, recuperare momenti difficili però è inutile guardarsi dietro, adesso bisogna guardare avanti e bisogna, ripeto, anche perché siamo in tanti lì ci sono ancora partite molte a disposizione io ho dato una quota però può anche variare questa dipende da... ma non lo so, ora visto un po' questi risultati può darsi anche di no però io non tanto voglio fare punti perché ora chiaramente domenica andiamo a fare una partita che insomma immaginate voi, però noi ci arriviamo dopo due vittorie in una settimana, cioè nemmeno in pochi giorni e quindi credo che ora sia solo importante recuperare le energie il mio pensiero in questo momento è solo rivolto a questo quando vedi la squadra che è particolarmente sporca nella gestione della palla questo ti dà un segnale di appannamento e il fatto anche di aver messo un pochino dentro il risultato perché siamo stati un pochettino troppo, troppo, troppo però ecco devo capire fino a dove è stato un fatto fisico io credo si siano unite queste due cose il cercare di raccogliere il massimo con il minimo sforzo però è anche comprensibile da parte dei miei ragazzi noi ti ripeto, poi è chiaro che il campo determina poi le partite però una cosa è certa che con il clima che troveremo poi noi veniamo da due vittorie dobbiamo andare a giocarsela per provare a vincerla perché se la vinci ti cambia completamente tutto